E ritorniamo in diretta dagli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo con un ospite in studio, un'ospitata molto gradita, lei è Graziana Morcaldi, autrice del romanzo Nuvola. Buongiorno Graziana, bentrovata. Buongiorno a te Tony, grazie per questo invito. Il romanzo che abbiamo qui, che possiamo vedere, tra un po' vedremo anche una locandina in grafica che ci parla della presentazione che Graziana farà oggi a San Giovanni Rotondo, ma prima di arrivare lei mi soffermo proprio sulla copertina Graziana che è davvero molto bella, una foto in bianco e nero che ha un significato sicuramente, per cui che ne dici se partiamo di qui? Sì, il significato è la parola famiglia, praticamente nella lingua dei segni questo gesto significa famiglia ed è una parte molto importante del romanzo perché è ciò che i protagonisti ricercano per tutta la vita. In particolar modo il mio protagonista maschile è un logopedista e quindi si occupa anche della lingua dei segni con i suoi pazienti e quindi ricorreranno entrambi questi temi per tutto il romanzo. Questo è un romanzo che è uscito solo alcuni mesi fa, io ho avuto la possibilità di leggerlo e sono rimasto particolarmente colpito, non solo dalla ricchezza dei temi che lo guidano, ma anche dall'intensità del racconto. Per cui ti faccio i miei complimenti più sinceri ed è un libro che è un po' lo specchio del nostro tempo, ci aiuta a riflettere su tanti temi che molte volte sottovalutiamo. Tu parlavi di famiglia, del linguaggio dei segni perché appunto c'è un collegamento forte anche col protagonista che è un brillante logopedista, ma la storia è davvero molto complessa. Utilizzerei questo termine perché è un romanzo che si affaccia su diversi mondi, se vogliamo un focus è senza dubbio quello del rapporto genitori-figli e di figli che poi diventano genitori. È un po' quello che è successo anche a te come donna, sei figlia, sei stata figlia come tutti quanti noi, lo sei ancora, a un certo punto anche tu sei diventata mamma, quindi quanto di te c'è in queste pagine anche? Beh, sicuramente il desiderio di evidenziare la figura dell'ogopedista perché è una figura molto importante per la vita delle famiglie con figli con necessità speciali. Credo che se ne parli poco e avendo personalmente questa, vivo questa esperienza attraverso la storia di mio figlio che è un bambino con necessità speciali, sentivo questa voglia di dare risalto a questa figura, in particolar modo creare un supereroe dei nostri tempi perché nella vita delle famiglie che vivono determinate situazioni il logopedista è un po' la prima figura che si rapporta a queste famiglie, quella più vicina e le famiglie si attaccano tantissimo a questa persona che sentono il bisogno di risposte, molto spesso risposte non ce ne sono o comunque arrivano con dei tempi molto lenti e non avendo avuto tanta fortuna nel trovare un logopedista come avrei desiderato in quel momento, che mi prendesse per mano, che fosse un reale supporto nella nostra vita in un momento difficile, io me lo sono creato. Lo hai idealizzato un attimo e lo hai riversato nelle pagine di questo libro. Quanto è importante, ecco, tante volte che l'arte supporti dei temi importanti che come dicevi tu spesso vengono un po' sottovalutati. Quanto è stato quindi terapeutico anche per te questo romanzo? Per me tantissimo perché ho cominciato a scriverlo in un momento molto difficile che era quello dell'attesa della diagnosi, per mio figlio e quindi mi ha veramente salvato perché ho riversato lì tutti i miei desideri, anche le mie paure, la mia rabbia ed è stato veramente benefico. La scrittura comunque è salva. Ed è molto bello, è molto bello quello che racconti e che hai appunto trasformato in un gesto concreto con questo romanzo che come dicevamo è veramente un romanzo molto intenso. Quando ti avvicini tu al mondo della scrittura, ci sei arrivata appunto di recente, spinta dai motivi di cui ci parlavi o comunque qualche cosa che in un modo o nell'altro ha sempre contraddistinto la tua vita? Ha sicuramente sempre contraddistinto la mia vita. Io da che ho ricordi ho sempre voluto scrivere, tant'è che poi ho anche intrapreso la carriera universitaria e sono diventata giornalista pubblicista per questo desiderio di scrivere, che poi ho capito che volevo più scrivere romanzi, cioè narrare in prosa piuttosto che dedicarmi al giornalismo. Quindi è stato difficile arrivare a concludere un romanzo, ci ho messo tanti anni e sicuramente l'esperienza con mio figlio è stato un motore che mi ha permesso di arrivare alla fine di un progetto perché è un po' quando vivi determinati dolori metti un po' in discussione tutto. Quindi in quel momento ho avuto quella risolutezza di andare avanti e di arrivare alla parola fine di un romanzo, dopo tanti anni di progetti inconclusi. Complimenti anche per questo perché tante volte è semplice avviare un progetto, avere un'idea e dire mi piacerebbe realizzarla, ma poi la difficoltà sta durante il percorso e da arrivare fino alla fine, soprattutto per quanto riguarda la scrittura di un romanzo, non è così semplice. Magari non lo è già se si scrive una poesia o una canzone che sono più brevi. Figuriamoci per un romanzo, per un romanzo come il tuo poi, che è veramente complesso, dicevamo, è ricco, che ci accompagna lungo oltre 300 pagine di emozioni, di storie, di scenari più vari, quanto sia stato arduo il percorso. Però appunto complimenti per averlo portato a termine. Prima di proseguire la chiacchierata ci fermeremo soltanto per qualche istante, per una breve pausa pubblicitaria e prima di che tu approdassi a questo tipo di scrittura, in realtà, come ci accennavi, ti sei formata come giornalista e comunicatrice, i tuoi primi passi ti hanno anche avvicinato ad un certo punto a Padre Pio TV, ma non lo svegliamo, ne parliamo subito dopo la pubblicità. Torniamo insieme a Graziana Morcaldi, autrice del romanzo Nuvola, il suo esordio letterario, un libro davvero intenso che consiglio a tutti di leggere, un libro che presenterà stasera alle ore 19 a San Giovanni Rotondo, come leggiamo nella grafica che ora avete a tutto schermo, un invito che Graziana rivolge a tutti quanti noi e che riproporremo anche in chiusura di chiacchierata. Quindi andiamo a riprendere il filo lì da dove c'eravamo fermati. La vita è un viaggio, si sa, ma non solo in senso metaforico, Graziana, perché tu a un certo punto dopo gli studi arrivi a Fuerteventura, nelle isole Canarie. Prima però, durante il tuo percorso universitario, c'è stato un punto di contatto proprio con Padre Pio TV perché tu hai fatto lo stage qui e anche perché sei originaria di San Giovanni Rotondo. Allora, raccontaci un po' di questa tua vita così interessante. Sì, io ho studiato a Perugia e quando c'è stata la possibilità dello stage mi ha fatto molto piacere riuscire a farlo qui, nel mio paese, in una realtà comunque molto importante che è riuscita a formarmi abbastanza, è stata una bella esperienza. Poi, dopo l'università, sono approdata appunto a Fuerteventura un po' per caso, mentre stavo facendo il tirocinio per diventare giornalista pubblicista e per caso ci sono arrivata, poi per scelta ho deciso di restare. Adesso sono 11 anni che vivo a Fuerteventura con la mia famiglia, ho conosciuto il mio compagno, è nato mio figlio, insomma ormai è la mia casa. Ecco, le Canarie sono un insieme di isole che sono a largo della costa occidentale dell'Africa del Nord e sicuramente una metà turistica che conosciamo in tanti, ma quanto riesce a soddisfare, utilizzo questo termine, le esigenze di chi ci deve abitare? Ovviamente, come ogni cosa, ci sono due facce della medaglia, quindi se da una parte ci guadagniamo in qualità della vita, anche per il bambino, è una realtà molto semplice, molto tranquilla, c'è pochissima delinquenza, si torna un po' indietro, quindi è una vita a misura di uomo. Dall'altra, ovviamente, essendo un'isola ed essendo un'isola piccola, mancano molte figure di professionali, abbiamo delle risorse un po' scarse ed è stato anche il motivo per cui a un certo punto, con la situazione di mio figlio, abbiamo pensato di andare via, perché a livello di terapie non potevano seguirlo adeguatamente. Lì è stato proprio il mio protagonista, lui, in realtà, a insegnarmi a non accettare i no. Quindi, se una cosa non c'era o non si poteva fare, avrei trovato un'altra strada. Ed è stato così che alla fine mi sono inventata questo progetto, è stato un po' di portare sull'isola terapisti professionisti e ospitarli a casa mia per seguire mio figlio. Quindi ho creato un po' questo progetto a cui ho dato il nome di terapisti senza frontiere proprio per richiamare quell'emergenza, quella necessità che avevamo sull'isola. È un progetto felice perché adesso ormai è passato più di un anno da quando abbiamo cominciato ad ospitare terapisti sull'isola e stiamo ottenendo dei risultati importanti, siamo soddisfatti. Beh, complimenti anche per questo. Dicevamo prima quanto è importante che l'arte supporti la nostra vita quotidiana e la nostra vita quotidiana poi in realtà è quel substrato che genera l'arte. Nel tuo caso lo hai dimostrato plasticamente con la tua tenacia, la tua caparbia, la voglia di non fermarsi ai primi ostacoli. E nel libro questo appunto viene concretizzato molto bene attraverso le tue parole. Il libro ha una struttura, non la definirei propriamente ad incastro, però c'ha due parti che alla fine sono molto legate tra di loro. Come mai hai scelto questo modo di approcciarti che in realtà trovo molto funzionale perché non svela tutto, ti spinge a sfogliare, ad andare in fondo alla lettura quasi senza sosta. È stata voluta o tante volte, come pure succede, il libro ha avuto questo suo respiro quasi in maniera naturale? È stato un po' un respiro in maniera naturale, però il mio primo desiderio è stato quello di analizzare determinati comportamenti umani e quindi in particolare volevo partire da quelli che derivano o dipendono dalla nostra infanzia perché comunque noi siamo il frutto dell'infanzia ed è un periodo della vita molto delicato e particolare però dove paradossalmente non abbiamo il libero arbitrio, quindi è un po' quello che ci capita. E da lì però viene fuori l'integrità della persona e quindi mi sono chiesta come si diventa adulti dopo aver passato un'infanzia difficile. Così sono nati i miei protagonisti, che sono un bambino e una bambina che vivono un'infanzia difficile insieme e poi vivono anche il trauma della separazione. In questo modo c'è stato il passaggio poi all'età adulta dove il filo conduttore, il filo rosso resta sempre quello di un cercarsi un continuare a cercarsi, però ho avuto la possibilità di scomporre un po' tutta una serie di emozioni universali quindi la rabbia, la paura, ma anche sentimenti come l'abbandono, la solitudine e dal momento in cui i protagonisti si sono separati dopo aver condiviso questa infanzia insieme, gli ho creato dei destini molto diversi proprio per avere la possibilità di analizzare il più possibile tutte le tematiche che mi stavano a cuore e quindi da una parte c'è lui che ha avuto una vita un po' più semplice, ha avuto delle persone vicino e dall'altra ho creato lei che da quel momento in poi ha vissuto un isolamento un po' volute e un po' dovute al contesto, alla situazione quindi sono riuscita in questo modo a parlare un po' di tantissime tematiche che mi stavano a cuore ma anche comprenderle perché il bello della scrittura è anche quello perché il processo creativo ci permette di capire, di capirci, di riuscire ad arrivare un po' in fondo vedere con la lente di ingrandimento cose che fanno parte della nostra vita ma magari non abbiamo tanto la capacità di rendercene conto e forse voi donne con ogni probabilità siete anche più brave di noi uomini nello scomporre come dicevi tu ed analizzare le varie fasi, i vari sentimenti che si provano durante la nostra vita e questo lo si percepisce molto bene durante la lettura di questo libro più volte mi sono soffermato pieno di meraviglia appunto a leggere la tua capacità di tradurre in scene, dialoghi emozioni a volte complesse, situazioni difficili ed è anche molto bello che comunque i protagonisti non smettono mai di cercare di trovare una via di uscita alle tante difficoltà e possiamo dire che ci riescono sì perché alla fine viene fuori anche quella parte del mio carattere dove nonostante tutto il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno quindi le difficoltà sì però devono servire per migliorarci, per cercare un'altra strada, mai per arenarsi ecco molto bene ecco un motivo in più per seguirti e per reggere la tua opera prima ora però ecco la cortesia personale che io ti chiedo è di fare in modo che non resti un'opera prima questa che ci sia un seguito che comunque tu possa continuare a scrivere perché abbiamo detto scrivere non è mai scontato richiede tempo, impegno, sacrificio e quindi ti chiedo se c'è già qualche cartella che sta prendendo vita sulla scia di questo tuo primo romanzo oppure no quindi se ti devo marcare stretta per continuare a farti scrivere sì no in realtà già c'è un romanzo quasi concluso che spero di riuscire a pubblicare a gennaio del 2025 bene questa sì che è una bella notizia perché nuvola vale veramente la pena di essere letto non sveliamo il perché del titolo lo lasciamo ecco come un qualcosa che potranno scoprire i lettori probabilmente se ne parlerà invece stasera la presentazione del libro San Giovanni Rotondo alle ore 19 ecco quanti ci seguono da Foggia e Provincia in maniera particolare da San Giovanni Rotondo sono invitati a partecipare alla presentazione che avrà luogo appunto al Pasteus in Piazza Europa nei pressi di Piazza Europa e via San Francesco dovrebbe essere comunque ecco è facile trovare il luogo della presentazione sono pronta e sono molto contenta perché interverrà anche una logopedista meravigliosa che si chiama Caterina Pruzzese e spero che avverrà un buon dialogo un buon confronto fra quello che siamo noi genitori quello che sono loro la parte professionale in questo percorso io non ne ho alcun dubbio per cui sono certo che sarà un bel momento quello di stasera ti faccio tanti cari auguri non solo per la presentazione e per il libro ma anche per il proseguo della tua carriera da scrittrice perché se queste sono le premesse possiamo aspettarci solo grandi cose grazie mille grazie a te Graziana Graziana Morcaldi autrice di Nuvola un romanzo che non può mancare tra le vostre letture nella vostra biblioteca grazie per essere stata con noi per aver condiviso non soltanto la tua opera prima ma anche la tua esperienza di vita e quindi l'augurio anche di un arrivederci a presto grazie noi restituiamo la linea alla regia e poi ci ritroviamo insieme per la volata finale di Just Today